Allora, senatore Renzi, questa guerra rischia molto di allungarsi, con rischi abbastanza estesi. È una vicenda drammatica. Noi siamo da 60 giorni, da due mesi, in una situazione in cui lei e tutti i suoi colleghi presenta la guerra. Gli esperti ci raccontano come sta andando, i giornalisti fanno le loro valutazioni, i politici fanno scenari. Ma abbiamo sdoganato l'idea che nel cuore dell'Europa sia normale fare la guerra. Sta roba qua, fino a sei mesi fa, sembrava impossibile. Siamo arrivati a utilizzare un vocabolario dove parole come armi nucleari sono diventate parole possibili, probabilmente non probabili. Allora, è una svolta enorme per una generazione, la nostra e soprattutto quella dopo di noi, che era abituata a crescere con un dato di fatto, pace e libertà scontate. Primo tema. Secondo tema, meno filosofico, più concettuale. Qui c'è un cambio straordinario dell'ordine mondiale. Qui c'è una situazione in cui si rischia di passare dal G20 al G2, cioè dal G20 tante potenze che stanno allo stesso tavolo, al G2 Stati Uniti e Cina soltanto. Perché? Perché la Russia sta spostandosi. La Russia la vede un satellite della Cina. Un grande satellite della Cina. Un paese straordinariamente complesso e complicato. Chi ha letto Churchill sa come definiva la Russia. Chi ha letto Dostoevsky ricorda come Dostoevsky dicesse senza Russia non c'è Europa, senza Europa non c'è Russia. È un mondo alla rovescia rispetto alla realtà di oggi. Ma certo è che la Cina sta crescendo nel proprio peso mondiale e l'Europa deve decidere che cosa fare. L'Europa ha fatto una grandissima difesa ideale e morale, penso alla Presidente del Parlamento. Oggi c'è stato il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel a Chieve. C'era stata la von der Leyen. C'è una chiara posizione morale dell'Europa, metterei come eccezione forse soltanto l'Ungheria, perché per il resto gli altri 27 tutti sulla stessa posizione. Però il problema è l'Europa che partita gioca nei prossimi anni. Cioè Russia ha un mercato di gas e non soltanto di gas che va a dare ai cinesi e agli indiani nel medio periodo. I cinesi e indiani sono 3 miliardi, gli europei sono 400 milioni. Allora, di fronte a quelle cose che il Presidente prima ricordava e che lei descriveva all'inizio, siamo in presenza di un fattore drammatico. Perché da un lato c'è la morte, quelle erano bare, non era Netflix, non era Amazon Prime Video, quelle erano bare di ragazzi di 20 anni morti in guerra, cose che non avremmo mai immaginato di vedere. E dall'altro c'è un cambio che... Io a Leopole ho visto le loro, in chiesa, le loro immagini e accanto le immagini dei figli, dei bambini con delle dediche ai padri. È una cosa allucinante. Guardi, ma scusi, le immagini di quella mamma che scrive il numero di telefono e il nome del figlio sulla schiena, le immagini del padre che bacia il bambino perché va a combattere. Ci sono cose che noi le stiamo dando per scontate, ma è una rivoluzione pazzesca. Non ci eravamo più abituati, viva Dio. E invece sta diventando possibile quello che sembrava assurdo. Poi ci sono tutta una serie di conseguenze su cui i media si occupano raramente, non per colpa vostra ma per esigenze anche di spazio, che però sono quelle più drammatiche. Uno, è in vista una carestia che porterà 12 milioni di persone, secondo le stime della FAO, a soffrire la povertà. Perché? Perché in particolare in Africa non gli arrivano più le materie. Due, hai un problema enorme che riguarda come il mondo si riorganizza. C'è stato a Yalta, per l'appunto, in zona, un grande momento di riflessione sul futuro verso la fine della seconda guerra mondiale, che ha disciplinato il nuovo ordine mondiale. Qui non si capisce chi può farlo, anche perché ciò che sta avvenendo avrà conseguenze devastanti nei singoli paesi. Banalmente, l'ultima, io ero presidente del Consiglio, venivo da lei e lei mi diceva questa questione dell'immigrazione non si regge più. Lo diceva mica solo lei, lo dicevano tutti i media di allora. Era il 2015 e avevamo l'immigrazione dal sud, cioè dal Mediterraneo. Lei si ricorda quanti erano nell'anno peggiore dell'immigrazione, il 15? Sono stati 180 mila i migranti che sono arrivati. Quindi un numero significativo. Ma 180 mila, sapete quanti sono i migranti arrivati in un mese dall'Ucraina? 90 mila. 91 mila. E sapete quanti sono i bambini o orfani o non accompagnati? Il 34%. Questo vuol dire che o noi diamo, questa è una proposta che io faccio al governo, l'abbiamo fatta ieri come Italia Viva, la rilancio, o noi diamo, piccola cosa rispetto alle questioni geopolitiche, un commissario straordinario per l'immigrazione che abbia i poteri, che aveva figliolo per i vaccini, e che permetta, uno, di non lasciare le donne ucraine a casa o alla merced della burocrazia o, peggio ancora, di qualche giro rosco. Due, i bambini nelle scuole devono essere aiutati. Cioè, siamo in presenza di un capovolgimento complessivo dove io invidio quei politici che fanno i tweet e pensano di risolvere tutto così. È una rivoluzione. E questa rivoluzione richiede, per me, che sono un inguaribile europeista, che l'Europa giochi anche un ruolo diplomatico. Cioè, ben vengano le sanzioni, però, mamma mia, scegli un inviato speciale dell'Europa e prova a giocare un ruolo. Siamo andati vicini così nel 2014, quando proponemmo a Putin e Poroshenko di fare di quell'area del Donbass, noi proponemmo esplicitamente il modello Alto Adige. Perché adesso chi ci segue da Bolzano sa benissimo a cosa ci riferiamo. Ma l'Alto Adige è stata una bellissima, geniale... Quello che noi abbiamo evocato in trasmissione molto spesso. Intuizione di De Gasperi. Ma scusi, quella vicenda lì, noi la proponemmo nel novembre del 2014. Arno Compaccer, presidente dell'Alto Adige, fece una lettera ai contendenti. All'onor del vero, bisogna dirlo, Putin era favorevole, gli ucraini allora no. Stiamo parlando però di un'altra era, 2014 e poi 2015. E si sono fatti gli accordi di Minsk, che sono un passo sotto. Perché dove era il vantaggio della scelta dell'Alto Adige? Che c'era una cornice internazionale che garantiva l'accordo su una forma spinta di autonomia del Donbassio. Dopodiché oggi c'è una situazione in cui si è perso, lo dico da 40 a settembre, da 50 anni quasi, noi abbiamo avuto un periodo in cui la Russia era un passo da diventare di nuovo parte integrante del mondo occidentale. la Nato, i vertici di pratica di mare, i G20, i G8. G8. Cosa è accaduto poi? È accaduto che è come se tu perdi un treno. E adesso questo treno si ricapita, ricapita tra 50 anni. Cioè la Russia poteva chiudere la stagione del comunismo ed essere parte della grande famiglia occidentale, qualcuno degli italiani, devo dire sia Berlusconi che Prodi, si sono spesi in questa direzione, si è perso l'attimo per responsabilità innanzitutto russe, diciamo le cose come stanno, perché poi gli americani non erano il problema in quella fase lì, e adesso noi abbiamo una cortina di ferro che torna ed è drammatica perché provoca le morti che stiamo vedendo e che venivano ricordati ora. Ma oggi era stato annunciato e in parte si è svolto un corridoio umanitario a Mariupol, però dicono gli ucraini che è funzionato male, per cui sono riusciti ad andare via soltanto poche decine di persone. Allora, vi convince il quadro di Renzi? Per 50 anni una porta si è chiusa. Ma sì, i rapporti tra Occidente e Russia certamente hanno fatto un balzo all'indietro verso il Novecento, su questo non c'è dubbio, per la decisione della Russia di ricostruire uno spazio, diciamo così, coloniale tra la Federazione Russa e l'Occidente, perché di questo si tratta. In Bielorussia hanno un regime fantoccio, diciamo amico loro, e ne volevano uno uguale in Ucraina. Il concetto è che se il governo del vicino non mi piace lo invado e lo sostituisco, che i russi hanno già fatto durante la Guerra Fredda, in Ungheria, in Cecoslovacchia e in Polonia, hanno sempre usato i carri armati per cambiare i governi dei paesi amici, tra virgolette. Quindi è questa la dimensione, la portata, ed è per questo che l'Europa non può non reagire, perché francamente io pensare che la questione sia trovare un sistema di autonomia regionale per le due repubbliche del Donbass mi sembra veramente, diciamo così, un pretesto che hanno usato i russi, perché tu dici l'Alto Adige, Matteo Renzi, dici l'Alto Adige, ma l'Alto Adige non era stato invaso dagli austriaci, per cui dopo essere stato invaso si è fatta la trattativa e si è deciso come funzionare. Invece il Donbass è stato invaso, le due repubbliche, da esercito non regolare russo, otto anni fa, nel 2014. Il battaglione Azov, definito famigerato, diciamo giustamente, perché ha i simboli, le svastiche, eccetera, non esisteva prima del 2014, è nato dopo l'invasione dei russi del Donbass. La Crimea è stata annessa addirittura, nel silenzio colpevole dell'Occidente. Nel silenzio dell'Occidente. E lui pensava di ripetere, che si cambiano i confini degli stati con la forza. Ora, se l'Europa, diciamo così, accettasse anche lontanamente, diciamo questa cosa, è finita, è finita. Diciamo, l'assetto, l'equilibrio, la pace dell'Europa sarebbe finita, che a quel punto... Questo significa mai un accordo fuori russi dal nostro territorio. No, vuol dire una cosa ben precisa, che nessun accordo può calpestare l'indipendenza e la sovranità di uno Stato. Non solo sovrano come l'Ucraina, ma riconosciuto da accordi internazionali, nella sua integrità territoriale. Accordi sottoscritti anche dalla Russia, nel famoso memorandum di Budapest del 1994, quando gli ucraini restituirono le testate nucleari alla Russia, nel quadro di un accordo generale di disalmo, per farne in parte distruggere, e in cambio la Russia, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna firmarono un accordo che garantiva l'integrità territoriale dell'Ucraina. Vado a memoria, ma erano 35 testate nucleari? No, erano di più. Erano di più, di più. Erano centinaia, di più. Erano di più. Era il terzo paese al mondo. Perché ovviamente faceva parte nella storia del Novecento dell'Unione Sovietica. Non dimentichiamo che in questa ricostruzione storica... Purtroppo c'erano uno zero in più. Sì, ce n'era qualcuno in più di zero. Credo che fossero 300. E aggiungi che, come dire, Nikita Khrushchev era nato in Ucraina. Non soltanto grandi personaggi dell'Italia. Ho troppa stima però di Polito per non rispondergli sul fatto che... Non è certo che io immagino che adesso si possa risolvere tornando all'Alto Adige. Ho raccontato un dato di fatto che purtroppo non è accaduto. E cioè che se nel 2014 si fosse chiuso quell'accordo con l'accordo internazionale sull'Alto Adige, vi sarebbe stato un elemento in meno di tensione in questo momento sul piatto. Poi ho una mia opinione. E cioè che c'è uno spostamento dell'asse del mondo. Cioè, non è soltanto un pramello Europa. Magari fosse soltanto un pramello Europa. I paesi principali, in termini di popolazione, non sono più i paesi in Europa. Questo è un dramma. È un dato di fatto. Noi siamo abituati a vedere la mappa geografica e l'Europa è al centro. Non è più così. E nei prossimi vent'anni, trent'anni, sarà sempre meno così. Perché? Perché numericamente Cina e India insieme sono tre miliardi di persone. Ma banalmente la Nigeria, tra vent'anni, sarà più grande, la sola Nigeria, non l'Africa, Vespa, la sola Nigeria, sarà più grande dell'intera Europa. Allora la domanda è, siccome noi siamo circondati da paesi che democratici non sono, questo è il punto fondamentale, come vogliamo interloquire e interagire con gli altri? Dice Polito, mantenendo l'integrità territoriale dei paesi che stanno in Europa. Intanto non c'è dubbio. Io ad esempio credo che questo tema del valore degli ideali occidentali è bellissimo che sia oggi difeso in Ucraina. Da filo atlantista e atlantico, da filo occidentale e da filo americano, le dico che mi piange il cuore pensando che un anno fa, esattamente meno di un anno fa, quegli stessi valori sono stati calpestati in Afghanistan. Perché per le bambine che oggi non vanno più a scuola a Kabul, perché i talebani non le mandano più a scuola, i valori occidentali ce li siamo messi nel taschino. Ce li siamo dimenticati. Allora, siccome io sono intervenuto in Senato criticando il mio amico Joe Biden, dicendo che in Afghanistan aveva sbagliato perché la posizione americana ha creato un clamoroso vulnus nella vita delle donne afghane, non soltanto delle donne, sono per dire attenzione, c'è da domandarsi qual è il nostro futuro? Perché poi, parliamoci chiaro Polito, lei conosce la parte inglese molto meglio di me, non c'è dubbio che gli inglesi hanno una passione per la libertà straordinaria, ma è anche vero che Boris Johnson sta utilizzando questa vicenda per fini interni. Cioè sta dicendo una cosa nella quale crede. No, sto dicendo che nei paesi occidentali abbiamo un elemento dove a un certo punto bisogna scegliere. Se vogliamo discutere di adesso è evidente che oggi tu non puoi far finta di niente e dire vabbè fate un accordo, ci chiudiamo gli occhi. Ma fino a qualche mese fa si poteva raggiungere un accordo che non si è raggiunto per responsabilità di chi? Innanzitutto di Vladimir Putin, punto. Chi è l'aggressore? Putin. Chi è il colpevole? Putin. Dopodiché se vuoi fare diplomazia devi cercare di trovare delle soluzioni sapendo che oggi comunque vada, ce l'ha spiegato il Presidente, in... Ma Macron e Scholz hanno fatto la spola con Mosca in continuazione per fare diplomazia, non hanno ottenuto nulla. Ma non c'è dubbio. Cioè nessuno si aspettava che invadeva la... No, no, gli americani lo sapevano, l'avevano detto, gli americani l'ha detto Draghi, l'intelligenza americana aveva detto tutto. Sottore Renzi, lei chiederà di essere interrogato dal Copasir? No, non vedo per quale motivo debba essere interrogato dal Copasir. Il Copasir è un comitato che deve controllare l'azione dei servizi segreti. Quindi deve controllare l'azione dei servizi... Io posso andare al Copasir, come sono stato quando ero Premier, per parlare di ciò che è successo tra il 14 e il 16, cioè quando sono stato Premier. Conte può andare quando è stato dal 2018 al 20, ora non ricordo gli anni precisi. Oggi il Copasir ha detto che non ci sono elementi nuovi. Infatti non voglio farlo, però guardi, per chiudere sulla parte di prima, mi faccia dire, io talvolta ho anche polemizzato con qualche giornalista, mi faccia dire bravo ai giornalisti che sono in questo momento in prima linea, lei ne ha intervistati due vostri colleghi della Rai e a tutti gli altri naturalmente delle varie testate, perché è vero che noi viviamo la prima guerra dai tempi di Instagram, quindi lo stesso Zelensky ha utilizzato moltissimo con grande capacità i social, però l'idea di avere il giornalismo e la libertà di informazione nei momenti della guerra è un valore che dovremmo considerare un valore fondamentale, siccome diamo tutto per scontato, ci tenevo a dirlo e a ringraziare tutti i giornalisti, ovviamente, i suoi come quelli degli altri. Rispetto alla questione Copasir, RussiaGated e dintorni, è molto semplice. A un certo punto in America si convincono che Obama e Renzi hanno fatto un complotto per truccare le elezioni in America. Ora, se non fosse che la puntata è seria e che adesso arriva Bubka a raccontare la sua storia umana e in Ucraina ci sono cose serie, uno dovrebbe mettersi a schiantarsi dalle risate. Cioè, Obama e Renzi che fanno un complotto per truccare le elezioni americane. Vespa, non sono riuscito a vincerle in Italia, le elezioni vado a truccarle in Connecticut o in Ohio. Via, per piacere, non ci prendiamo in giro. È una follia. Questa follia è una follia alla quale fanno finta di credere per esigenze interne alcuni esponenti repubblicani con l'amministrazione Trump. Punto. E chiedono degli incontri agli omologhi italiani. Se io fossi stato premier ma avessero detto che Berlusconi o Prodi o Monti, cioè i miei, o Letta, i miei predecessori, avessero complottato per vincere le elezioni in Nevada, gli avrei detto, ragazzi, fateli vedere da uno bravo e poi ne riparliamo. Invece, in questo caso, Conte ha fatto un'altra scelta. Bene. A me non preoccupa più Conte perché tutti i giorni mi alzo e dico che bello aver mandato a casa Conte e aver preso Draghi, è molto meglio per me e per l'Italia. Quindi non sono preoccupato di sta cosa. Quello che ha fatto Repubblica, con un giornalismo d'inchiesta, è stato dimostrare che Conte al Copasir ha mentito. perché ha detto una cosa, cioè che non c'erano stati incontri fuori dalle sedi istituzionali, che non era vero. Oggi Vecchione spiega che quell'incontro era un rinfresco. Io che sono di campagna dico che il rinfresco si fa dopo la prima comunione, non si fa dopo un incontro ai servizi segreti. Ma non è importante. L'unica cosa vera è che Conte ha mentito al Copasir. Punto. Dopodiché Conte non fa più danni. Quindi è un trama suo. Stasera ha detto che lei rischia di danneggiare le prossime generazioni. Io non lo so che cosa gli è successo a quell'uomo. Una volta mi è riuscito con Salvini, ho detto a lei chiami Salvini e facciamo un confronto all'americana. Salvini è venuto, almeno Salvini è venuto. Conte, sono un anno che gli dico vuoi parlarne? Facciamo un confronto all'americana, non con le domande che ti prepara Casarino. Quindi se Conte vuol venire, qui si fa un dibattito in Parlamento, non c'è quindi non si può fare in Parlamento. Però a me questa cosa di fronte alla guerra non interessa per niente. Il dato di fatto è che Conte ha mentito al Copasir? Sì. E lo ha confessato lui stesso. Punto. Basta. Sul resto, ci sono una serie di questioni. Lo dico omaggiando il Corriere e Domani, perché ci sono qui due giornali, il Corriere e Domani. C'è una vicenda grande come una casa, l'elefante in una stanza, che è come si è gestito nei rapporti con i russi, non quindi con Trump, Trumpgate, Russiagate, Barr e dintorni, ma il rapporto con i russi, la vicenda degli aiuti durante i primi mesi del Covid. Il Corriere della Sera da una settimana sta scrivendo articoli, forse qualcosa di più di una settimana, sul fatto della missione dei militari e c'è qualcosa che al Corriere non torna, mi pare di poterla definire così. Il Domani ci ha messo l'asso, perché accanto a questo ha scritto, loro, non io, che c'è una questione legata alla sperimentazione dello Sputnik, del vaccino, insomma se vuole Feltri la spiegherà meglio di me, quindi Conte c'è un problema che dovrebbe raccontare, dovrebbe smettere di dire bugie. Io prometto di non dire più la verità su di lui se lui smette di dire le bugie agli italiani, perché il problema è vero, è che sul Covid, le mascherine, i ventilatori non funzionanti ma garantiti da D'Alema, i banchi a rotelle, lo Sputnik a Roma, i militari a Bergamo, non soltanto a Bergamo, ma comunque i militari che arrivano, cioè non c'è una cosa che torna, ho chiesto la commissione di inchiesta, mi dice di no, i 5 Stelle erano per la trasparenza, non ne vogliono parlare, dopodiché i problemi sono altri, però la verità è che Conte ha mentito e non ha ancora di dire. E perché non vogliono fare la commissione di inchiesta su sta roba? Perché c'è soltanto un partito, il mio piccolino, che chiede di fare la commissione di inchiesta? Perché hanno tutti qualcosa da nascosto. Io no, e che cavolo? Cioè vuole dire, non è che tutti, diciamo le cose. Ognuno di quelli che ha mangiato sul Covid ha un referente politico. Io però ci ho mangiato, sono a dieta e voglio dire, alla fine voglio capire perché sul Covid c'erano migliaia di italiani che morivano e dei soldi del contribuente buttati via. Perché l'ultima, non l'ha scritta nessuno di voi, devo dire, a un altro giornale che io non amo che è la verità, l'ha scritto la verità, le provisioni sulle mascherine sono improvvisamente cresciute. Questo per dire che torno da un lato a dire bravi ai giornalisti che comunque in modo diverso vanno a studiare le carte. Questo ce lo ricordiamo alla prossima querela. Quello ve la faccio lo stesso. Io smetto di querela. Se voi smettete di dire falsità. Quindi è la stessa roba che vale per Conte. Chi mi dice, se mi dicono che sono un ladro io querelo. Però io dico bravo, io sono intellettualmente onesto. Lei ha fatto un lavoro straordinario sullo Sputnik. Lui ha fatto un lavoro straordinario sul... Fiori nostri colleghi. Andrea Conniglio. Però il concetto è che la verità, altra querela che ho fatto su questa vicenda qui sono stati bravi. Però mi dite perché la politica deve inseguire i giornali. Io voglio che la politica faccia una commissione di inchiesta per capire chi ha rubato sul Covid. Mi sembra una cosa drammatica? Torniamo subito.